Ora veniamo a questa serata. L'apriremo con il nostro format esclusivo, il CEO Summit, dal titolo che speriamo possa essere un po' di ispirazione a tutti voi, Leadership is Hard, le sfide di un mondo in continuo cambiamento. E allora io invito sul palco i primi protagonisti di questa serata, Alessandro Castelli, direttore risorse umane, comunicazione, ESG, assetto organizzativo Property and Mobility Management di Credito Agricole Vita. Buonasera, benvenuto, grazie per essere qui. Gianluca Perin, Chief HR and Organization Officer di Generali Country Italia e Global Business Line General Italia. Buonasera, si accomodi, ecco gli applausi, ovviamente lungo tutta la serata sono ben accetti perché scaldano l'atmosfera, ma sicuramente la scalderemo affrontando questi, come dire, questi argomenti, perché il titolo già dice tutto, le sfide in un mondo in continuo cambiamento e lo dicevamo poco fa. Insomma, abbiamo vissuto un periodo molto complicato ma che non è ancora terminato peraltro, quindi lo stiamo continuando a vivere. Allora, io per rompere il ghiaccio vi chiederei di raccontare un po' la vostra esperienza perché le cose concrete, le ricette così come le definisco io, sono sempre un buon punto di partenza. Quali sfide avete affrontato in questo momento storico e il vostro approccio al cambiamento? Qual è stato? Allora, partirei da Alessandro Castello e poi naturalmente Gianluca Perin. Sì, beh, buongiorno a tutti, grazie appunto di questa occasione. Beh, allora, direi che non si può che non parlare di questo new normal, no? Cioè, tutti parlano di questo new normal e in effetti è sempre più effettivo, no? Cioè, alla fine, dopo quello che abbiamo passato, stiamo affrontando una serie di sfide e ormai abbiamo capito che forse il cambiamento diciamo che è un po' dentro di noi, no? Quindi affrontiamo queste sfide ma andiamo sempre verso ulteriori cambiamenti. A livello di sfide direi che forse una delle sfide più importanti in questo momento è, penso, per quanto ci riguarda, la gestione di questo smart working e di questa presenza, no? Quindi di questa gestione ibrida nella modalità di lavoro. Abbiamo affrontato lo smart working in emergenza, no? Da tutti ormai definito home working ed è stato un momento molto complesso. Adesso stiamo tornando in presenza, sempre di più. È un'esigenza che ormai proviamo tutti, no? Di rientrare in presenza, ritornare a una socialità dove anche i luoghi di lavoro sono importanti. Quindi a livello anche di cambiamento è importante permettere di poter utilizzare la socialità con dei posti di lavoro evoluti dal punto di vista tecnologico e digitale. Quindi intervenire su posti dove si possa collaborare in un modo completamente diverso. Quindi questo sicuramente è una sfida importante. Ritengo che anche l'innovazione tecnologica, quindi l'utilizzo di tutte queste nuove tecnologie, quindi dall'intelligenza artificiale, dalla robotizzazione, sia ormai una cosa che dobbiamo gestire, utilizzare. Penso anche che debba essere gestita a tutti i livelli. Quindi qua rientriamo nel tema della leadership. Ovviamente in questo new normal dobbiamo, anche noi come risorse umane, lavorare sempre di più su una figura nuova di leader. Quindi a me piace definirla leader coach, cioè una sorta di leader che abbia non solo le competenze, competenze tecniche, competenze organizzative, competenze operative che possono comunque svilupparsi nel corso del tempo, ma che non può prescindere più dalle soft skill e dalle capacità di gestione, relazionale, ascolto, che sono fondamentali e che abbiamo visto sono state un perno di tutto questo periodo. Certo, anche perché abbiamo compreso ancora di più il significato della parola sinergia, in questo periodo sembrerà banale, ma poi si ricollega a quello che lei diceva, insomma. Quindi il leader che deve essere in realtà un attrattore per così tutto quello che ruota intorno a lui. Esatto, sempre di più le nuove generazioni ci chiedono leader, manager, mentor, che li possano guidare. La generazione Z, i millennial, cercano sempre più queste figure nel leader, nel manager, nel proprio responsabile. Cercano delle figure che possono essere dei punti di riferimento e questo è fondamentale. Sempre di più e sempre di più lo sarà. Già ci ha dato uno spunto importantissimo, cioè come bisogna anche un po' formarsi, no? Per guardare al nuovo mondo del lavoro. Parola, altra parola chiave. Gianluca Perin, stessa domanda faccio a lei, quindi chiedo come avete affrontato questo periodo. Essendo stato un periodo, direi, per tutti, insomma, difficile e anche per alcuni aspetti tragico, ovviamente. Adesso abbiamo anche la guerra, quindi diciamo abbiamo un susseguirsi momenti, però per assurdo, per chi si occupa del nostro mestiere, secondo me è stato un momento di grande cambiamento e di grandi opportunità. Secondo me chi ha saputo cogliere le opportunità in questo momento ha un vantaggio già competitivo oggi e ancora di più nel domani. Penso che siamo davanti veramente a un cambio del modello organizzativo di funzionamento delle aziende, almeno noi come generali pensiamo che sia così e non si parla solo di smart working. Noi appunto, new normal, noi l'abbiamo chiamato next normal, ma vuol dire cambiare le basi del modello di lavoro. L'abbiamo sperimentato in questi due anni, i risultati economici ci hanno dato anche ragione. Noi abbiamo fatto i migliori risultati nella storia di generali e cambiando totalmente le logiche di fondo con cui noi collaboriamo, le logiche di fondo con cui noi assegniamo gli obiettivi, misuriamo le logiche di fondo con cui l'organizzazione funziona. Indietro secondo noi non si torna. E in questo l'evoluzione delle aziende è stata rapida, abbiamo fatto un salto digitale sul digital device enorme, insomma è stata un'accelerazione veramente incredibile. Noi riteniamo che quello è il futuro e chi non coglie questo cambiamento secondo me non interpreta quello che è la dinamica futura e lo vediamo dai giovani. la prima cosa che ci chiedono è qual è il modello di flessibilità. Assolutamente. Questo è quello che è emerso di più, quindi insomma è una conferma delle conferme, cioè il modello flessibile. Speriamo che proprio il nostro paese riesca a incamerare questo modello perché il fatto è che deve arrivare dal sistema, poi chiaramente tutti noi singolarmente possiamo metterci del nostro, anzi dobbiamo metterci del nostro. E allora a partire da queste sollecitazioni, torno ad Alessandro Castelli e analizzando ancora la situazione italiana attuale, insomma quali sono le vostre aspettative per il futuro? Per futuro ovviamente intendiamo domani, perché lo dicevamo poco fa un anno è sembrato dieci anni in questo periodo, quindi ancora di più si ragiona dall'oggi per domani ma non significa non essere lungimiranti e non creare comunque un modello di business che possa poi essere adatto anche per un futuro più lontano. Però insomma si ragiona così proprio perché le cose possono cambiare, cioè ci siamo abituati a questo concetto, no? Assolutamente. Mi rilaccio a quello che diceva Gianluca sul tema del cambiamento che non si torna indietro. Anche penso dal nostro punto di vista, ma penso in tutto in generale le risorse umane, quindi i dipartimenti HR, le aree HR, hanno fatto un cambiamento epocale. Non siamo più un dipartimento HR a disposizione, ma facciamo le strategie, dettiamo le strategie, siamo HR business partner, parliamo in consiglio, diamo dei segnali, diamo delle strategie. Secondo me questo è il futuro, il presente e deve continuare così, cioè dobbiamo assolutamente guidare quello che è il cambiamento nelle aziende e effettivamente l'abbiamo provato. Alla fine durante la pandemia le risorse umane hanno svolto chi più chi meno in vari settori, dalla sicurezza alla salute alla parte di ambientale, alla parte di amministrazione, un ruolo veramente importante, un ruolo di guida e penso che questo debba continuare. Un altro aspetto anche su cui noi abbiamo lavorato parecchio come creditari col vita e assicurazioni, la gestione e l'attrazione dei talenti, questo è un altro aspetto fondamentale, si parla tanto di queste grandi dimissioni, in realtà queste grandi dimissioni hanno varie sfaccettature, però penso che si debba lavorare sulla gestione, sulla retention dei talenti, ma devi lavorare iniziando dall'employer branding, dalla formazione e anche dalla gestione dei leader che possano poi gestire effettivamente queste nuove generazioni, che sono completamente, ci tengo a dirlo, disruptive da tanti punti di vista, sono molto più veloci, più fast, chiedono molto più velocemente le cose e tante volte diciamo le strutture aziendali non sono pronte a questo cambiamento, quindi dobbiamo secondo me andare veramente oltre, continuare a buttare il cuore oltre l'ostacolo e andare avanti da questo punto di vista. Insomma c'è stata questa accelerazione che ormai è evidente, esatto, quindi ognuno ormai lo possiamo chiamare come vogliamo, ma insomma il senso è quello, stessa domanda faccio a lei dottor Perin, quali sono le vostre aspettative per il futuro, se avete notato anche quello che, perché insomma può essere un completamento anche rispetto a quanto diceva Alessandro Castelli. Ma guardi, noi dal nostro punto di vista vediamo sicuramente un mercato che ci pone grandi sfide, l'aspetto inflazionistico è il primo, lo dico per il risparmio degli italiani per esempio, non è chiaro che noi abbiamo al nostro interno un'importante responsabilità sulla difesa del risparmio degli italiani e delle famiglie italiane, da questo punto di vista ci sentiamo molto molto responsabilizzati e dare una risposta giusta e questo dell'inflazione non è solo un problema di business, è un problema per esempio per chi fa il nostro mestiere nei rinnovi contrattuali molto importanti, adesso abbiamo visto le sfide che anche il Ministro Orlando ci pone su questi rinnovi e qui bisogna avere la capacità di guidare e non rilanciare una sfida inflazionistica che parte anche dai salari. Ecco quindi questo io penso che sia per noi veramente un momento chiave per tutto il sistema paese, quindi trovare delle risposte giuste perché c'è una domanda che deriva dalle nostre persone, reale, concreta, che vuol dire pagare le bollette che per tutti che le ha dovute pagare adesso ha visto i risultati e dall'altra parte fare in modo che questo non si trasformi in una dinamica inflazionistica che sappiamo incide proprio sul risparmio, sulle pensioni future degli italiani. Quindi noi sia come attori economici e quindi come grande impresa, sia come owner di responsabilità verso questo risparmio ecco lo interpretiamo con grande serietà e preoccupazione. Ecco abbiamo toccato tanti aspetti veramente di attualità, le grandi dimissioni di cui parlava prima, l'inflazione ormai è un argomento che purtroppo è diventato parte delle nostre giornate ma il tema del risparmio perché insomma l'Italia e gli italiani sono grandi risparmiatori però chiaramente in questo momento c'è un'erosione di risparmi incredibile proprio per il tema dell'inflazione quindi in qualche modo anche proprio da parte nostra ci deve essere una presa di posizione da questo punto di vista. Adesso non a caso sono partita con due domande un po' generali a entrambi invece adesso voglio andare un po' più nel dettaglio. Torno ad Alessandro Castelli perché all'inizio della presentazione ho scherzato un po' sulla nostra anchor digitale e allora io dico sempre ma prima o poi mi sostituiranno cioè con questa Fireflies e allora devo aver paura cioè l'intelligenza artificiale è davvero così, cioè rischia davvero di sostituire la presenza umana perché questo è un po' un dilemma. Nel momento in cui si parla tanto di innovazione, di digitalizzazione si ha paura che davvero poi il capitale umano venga un po' messo ai margini. Cosa risponde a questa domanda? Ma ti ringrazio per la domanda perché è veramente di piena attualità. Dal mio punto di vista ti rispondo con uno degli slogan del gruppo Creditable Assurance nel mondo che è 100% umano, 100% digitale. Ci crediamo, quindi dal nostro punto di vista uno non può sostituire l'altro. Quindi ci deve essere comunque un'interazione, devono interagire e mi piace anche definire, riprendere questo umanesimo digitale, cioè il fatto di comunque di questa umanizzazione del digitale, della digitalizzazione, dell'innovazione in generale. Anche perché dal mio punto di vista comunque la persona è comunque fondamentale, importante. Non dobbiamo avere paura però dell'intelligenza artificiale, della tecnologia, del nuovo. Non dobbiamo avere assolutamente paura di questo aspetto perché deve essere inclusivo, deve essere incluso in tutti quelli che sono i processi, le procedure, tutto quello che ne consegue a livello aziendale. Dobbiamo però saperla utilizzare. E qua torniamo sul discorso di cultura, ora. Quindi mi piace molto parlare anche di cultura digitale e quindi dobbiamo investire tanto in formazione. Certo, anche perché comunque il mondo digitale è fatto dall'uomo, cioè non è che si crea da solo, no? Quindi ovviamente bisogna tutt'al più di rottare le competenze in quel settore, in quel mondo, no? Cambiare un po' le prospettive. E a proposito di prospettive, Gianluca Perin, insomma, mi chiedo e le chiedo quali sono quindi queste nuove sfide che in questo momento sono poste al mondo HR per l'immediato futuro? Ma io credo che chi lavora nel nostro ambito veramente dovrebbe essere, avere un momento di esaltazione perché siamo di fronte veramente a un cambiamento epocale che penso capiti poche volte, no? Nella storia professionale. Chi ha la fortuna di viverlo in questo momento deve coglierlo perché veramente dobbiamo cambiare tutto, no? C'è il digitale, c'è l'artificio, l'intelligent, i dati, c'è il modello organizzativo, c'è l'utilizzo anche delle, diciamo, i confini aziendali che vengono meno, l'orario di lavoro non ha più significato, beggiare che una volta era, no? Sono tutte cose che sembrano dell'ottocento. Ecco, noi siamo in questo momento, la funzione HR è centrale in questo momento su questi quadriamenti, quello che diceva il collega lo trovo veramente, cioè noi dobbiamo cogliere come professionisti questo momento di cambiamento e aiutare l'impresa a, diciamo, cogliere questi cambiamenti e portarci nel futuro. Se uno solo pensa col modello, diciamo, remoto, come i tuoi talenti e si ampia il confine, diciamo, anche, come dire, non solo territoriale e locale, ma io dico territoriale e un domani dei talenti anche nazionale, è un'opportunità veramente incredibile di vedere e interpretare nuovamente l'azienda. Quindi, dal mio punto di vista, per chi lavora in questo momento nelle funzioni e nelle risorse umane, è veramente un grande momento professionale. Assolutamente, quindi rimango un attimo da lei, poi chiudiamo anche con Alessandro Castelli, visto che il titolo del nostro CEO Summit è Leadership is Hard, e lei ha parlato molto di leadership. È così hard, è così complicata, ma cosa aggiungerebbe dopo questo ma? Insomma, ci vuole passione. Ognuno di noi che è qua pensa che abbia passione nel proprio mestiere. Quindi, se si mette questa passione in quello che facciamo, tutti insieme spingiamo il nostro paese a fare qualcosa in più. Quindi, mettiamo questa passione a servizio, io direi, anche della nostra povera Italia, che, insomma, ha un momento difficile da affrontare. Decisamente sì. Ma, lei cosa aggiungerebbe dopo il ma? Tornerei sulla leadership e direi che veramente abbiamo bisogno di leader che si adattano sempre di più alle situazioni. L'abbiamo vissuto e il futuro è sempre più difficile, quindi abbiamo bisogno di questi leader. Ottimo. Allora, grazie. Quindi, Alessandro Castelli, direttore risorse umane e comunicazione ISG, asset organizzativo, property e mobility management di credita del Col Vita. Grazie davvero, Gianluca Perin, Chief HR and Organization Officer di Generale Country Italia, Global Business Line di Generale Italia. Grazie mille. Grazie, un applauso per...